la sera buonasera settima puntata di fuori gioco buonasera claudia ben ritrovata beh siamo all'indomani di un fine settimana piuttosto acceso piuttosto come dire vivace usiamo neofemismo ma avremo tanto da dire in questa puntata tanto da vedere non solo per quanto riguarda gubbio maceratese ma soprattutto per gubbio maceratese vedremo anche tanti gol per fortuna non solo le polemiche e sarà una serata anche chissà piena di aggettivi bisogna misurarli stasera claudia gli agg si stasera gli aggettivi bisogna soppesarli me ne viene in mente uno inadeguato così a caso però vedremo se uscirà fuori nel corso della della serata tanti gli ospiti di questa sera che hanno con noi avranno l'opportunità di parlare di gubbio maceratese e non solo e allora claudia andiamo a presentare daniele casiraghi ciao daniele ciao buonasera bentornato a fuori gioco perché insomma l'ultima volta c'eri stato un paio d'anni fa mi dai un aggettivo di solito iniziamo un aggettivo sul tuo ritorno a gubbio sono molto contento di essere tornato a gubbio l'aggettivo preciso non mi viene però sono molto contento ho preso questa scelta appena ho saputo che c'era l'opportunità è stata una scelta di cuore diciamo e sono molto contento contento insomma però un bel aggettivo è anche per il futuro andiamo claudio è stato calciatore l'egra pro e serie di vestendo numerose maglie da arezzo a grosseto da spezia amassese e ponte d'era oggi è giornalista capitano della selezione regionale giornalisti e insegna ai più piccoli nella scuola calcio giunti di città di castello federico parto baron di baron di federico ciao buonasera a tutti ciao benvenuto sabato a real barbetti hai visto una partita abbastanza vivace vivace l'aggettivo giusto mi dai un aggettivo per la partita di sabato beh penso che calci a pennello vivace durante vivace dopo un aggettivo appropriato non ci siamo annoiati no no precisamente no avete sentito federico tra l'altro insomma parleremo anche alla fine ci facciamo ce la suoniamo ce la cantiamo fede per la selezione giornalista il nostro capitano vuoi precisarlo subito tra l'altro l'unico che sa giocare a calcio nella formazione oltre ai top player quindi sicuramente sentiremo insomma giudizi giudizi competenti claudia è stato per anni responsabile sicurezza del barbetti nell'anno della b in quelli successivi quest'anno è tornata a rivestire questo ruolo con cui coordina anche la squadra di steward luca tasso ciao luca buonasera a te chiedo un aggettivo per la serata di sabato ma più che frizzante quello che si può raccontare ce lo può raccontare assolutamente sì tu eri vicino diciamo all'uscita al direttore di gara io ho accompagnato il direttore di gara agli spiegatoi quindi ho visto tutto e mi ha detto tutto quello che non trovo non so se ne vogliamo parlare adesso o dopo me lo dovrai dire te no no ne parliamo ne parliamo dopo intanto presentiamo l'ultimo ospite anche se mi dicono dalla regia che c'è qualche problemino sul microfono di claudia guarda cosa facciamo claudia in diretta mi presto volentieri alla bisogna prego per gli opinionisti abbiamo un tifoso che se che segue sempre la squadra ma che è stato anche arbitro di calcio e può darsi la situazione meteo dei direttori di gara in lega pro riccardo rossi ciao riccardo bentornato grazie riccardo è stato per diverso tempo opinionista fisso moviolista della nostra trasmissione ci voleva dei remigis di teramo per riaverli in studio è stato è stata una fortuna che dice il meteo sul gubbio rispetto all'arbitro il meteo reale in generale il meteo è stato frizzante come ha detto claudio prima ma secondo me è stata una serata di inesperienza di inesperienza quindi usiamo un sostantivo non un aggettivo serata di inesperienza intanto riccardo comincia a farci entrare un pochino nei temi della serata ovviamente vedremo gli episodi un pochino più contestati di questa di questa gara avremo anche tra l'altro su uno degli episodi quello forse più clamorosi il gol annullato un'inquadratura un po inedita rispetto alle immagini che i highlights di solito ci propongono e sapete che per la legge dei highlights o prendi quelle oppure tarrangi e quindi noi avremo qualcosa in più grazie al nostro prezioso collaboratore ma soprattutto avremo le parole del dopo partita avremo anche un collegamento telefonico tante immagini come detto e anche i gol i gol ovviamente di questa giornata ma intanto claudia può raccontarci un pochino i numeri di questa di questa giornata c'è un problema di audio a questo punto facciamo una cosa prima dei numeri rocambolescamente andiamo in sigla e poi dopo la sigla dopo aver sistemato anche la nostra claudia che non ha bisogno di essere sistemata perché anche stasera è perfetta il problema ovviamente solo il microfono è un intruso ma purtroppo bisogna bisogna tenercelo e andiamo in sigla la copertina e poi claudia ci racconterà i numeri di questa giornata cecchini è abbigliamento uomo donna bambino sarabanda annarita n che guapa penny black amacheo keyway contatto five preview il direttore franco pinna è lieto di accogliervi al castello corte vecchio il castello corte vecchio a pochi chilometri da gubbio immerso nel verde in un'atmosfera da sogno renderà indimenticabili le le tue cerimonie e i tuoi banchetti. Inoltre lo chef tutti i giorni propone la grande varietà della cucina Umbra rivisitata con sapiente maestria in un ambiente raffinato ed esclusivo e ricorda Corte Vecchie organizza tutte le settimane di tutto l'anno cene a tema. È versatile, durabile e resistente. Può assumere qualsiasi forma per costruire edifici sicuri e architettonicamente belli, in grado di conferire armonia alle città e ai territori. Ambienti sostenibili e intelligenti in cui abitiamo, lavoriamo e costruiamo relazioni. Infrastrutture che migliorano la qualità della nostra vita, ci proteggono dalle calamità naturali e rendono più belle e organizzata la città. Cemento e calcestruzzo dopo più di 2000 anni sono prodotti che realizzano spazi per vivere meglio. Colacem Colabeton. Tecnologia, innovazione e sostenibilità. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS No Free Auto. Auto nuove usate chilometri zero e veicoli commerciali. Assistenza diretta. No Free Auto ti aspetta nelle sedi di Gubbio e Gualdo Tadino. No Free Auto. E anche servizio soccorso stradale. No Free Auto. La serietà di sempre. Sabato e domenica, presentazione della nuova Megane Sporter. Darmi i sogni tranquilli, proteggendo la tua casa e i tuoi cari. Affidati a B-Security di B-Elettrica dal 1979. Tutto è sotto controllo. Le cose che ami da cui non ti vorresti mai distaccare oggi possono rimanere con te per la tua serenità e sicurezza attraverso il tuo smartphone o tablet. B-Security di B-Elettrica. Progetta e installa impianti d'allarme, anti-intrusione, video-sorveglianza e video-controllo. B-Security. Perché la sicurezza della tua famiglia non ha prezzo. B-Elettrica. Una vecchia regola del giornalismo sportivo insegna che il miglior arbitro di solito è quello di cui a fine partita non ci si ricorda il nome. Di Daniele Deremigis da Teramo invece il pubblico del Barbetti che è assistito a Gubbio Maceratese si ricorderà a lungo perché sulla terza sconfitta interna stagionale del Gubbio grava come un macigno la serata dir poco infelice del direttore di gara e della coppia di assistenti. Premessa doverosa, rifugiarsi negli errori arbitrali è spesso un facile alibi in tutte le categorie per nascondere errori e lacune della squadra. Francamente però quello che si è visto sabato al Barbetti rasente al ridicolo. Non solo una condotta di gara costantemente viziata ad atteggiamento indisponente, impressione confermata dai protagonisti in campo ma soprattutto due gravi errori che hanno inciso in modo determinante sul risultato. Il primo alla mezz'ora quando sul gol del Gubbio viene sbaglierato e fischiato un offside a dir poco cervellotico Candellone ruba palla agli avversari, conclude sul portiere, la sfera si impenne e diventa un assist per Ferretti che di testa insacca. Errore pacchiano ma anche pesante perché sbloccata la gara il copione tattico sarebbe stato ben diverso. Si arriva al novantesimo con altri piccoli episodi di ordinaria insufficienza. Quando Palmieri viene lanciato lungo, si allarga, Narciso va per uscire e l'impressione netta dalla traiettoria è che il pallone venga smorzato e deviato ma l'arbitro ben posizionato indica il dischetto suscitando la furibonda reazione di Narciso, della squadra e del pubblico. Per la cronaca il quarto rigore contro una squadra è il Gubbio che fino a sabato aveva subito appena 6 gol in 8 giornate. Numeri che fanno pensare che gli avversari non stazioni no vita natural durante nell'area di rigore rosso-blu. Non ci piace, ne condividiamo la cultura del complotto piuttosto la cultura del merito e finora ai rosso-blu sono toccati fischietti non sempre meritevoli di stare in questa categoria. Sul resto della gara nulla di nuovo, il Gubbio ha palessato le tante virtudinamiche tattiche, individualità notevoli così come le solite difficoltà a tradurre in gol la mole di gioco con poche soluzioni offensive a disposizione di Magi che ha 3 attaccanti su 6 in infermeria eppure un centro campista abile negli inserimenti come Romano costretto a dare forfè. Detto questo, onore alla maceratese di Giunti che a dispetto della classifica e delle avversarie viste fin qui al Zambiaggio non ha fatto barricate, se l'è giocata, ha avuto la fortuna di situazioni favorevoli e le ha sfruttate. Del resto Narciso, quasi inoperoso col Forlì, è stato molto più impegnato di quanto non fosse stato Volpe nelle tre gare interne precedenti. Guardare avanti è l'unica ricetta possibile. Per metabolizzare il rammarico, evitando farsi del male e pensando che una vittoria ai 19 punti avrebbero equivalso alla vetta solitaria. Consoliamoci. Di questi tempi non sarebbe servita nulla. Serve lavorare, recuperare gli assenti, sostituire i probabili squalificati. E da dietro la scrivania, perché no, serve farsi un po' sentire nelle stanze che contano, se non altro per aprire gli occhi a chi gestisce una categoria arbitrale che qualche volta, più che salita da Teramo, sembra scesa da Marte. Arbitro, arbitro, in fondo è stato bello, domenica sportiva come un carosello. Questa è la nostra copertina. Come detto, il protagonista c'è in questa serata. Non è nei nostri studi, ma inevitabilmente ne parleremo. Abbiamo precisato, doverosamente premesso nella copertina, che non vuole essere ovviamente un alibi perché analizzeremo anche la partita. Cercheremo di capire dov'è che comunque il Gubbio deve crescere per evitare che anche qualche errore di troppo da parte di chi guida la gara finisca per incidere pesantemente sul risultato. Vi dovevamo i risultati e la classifica. È tutto risolto, Claudia? Sì. Intanto abbiamo anche l'aggiornamento, per ora non c'è, ma insomma seguiamo da vicino l'ultima gara di questa giornata. Sì. Si tratta? Padova-Reggiana. E siamo? Al 22esimo del primo tempo, sempre 0-0. Sempre 0-0 al stadio di Padova, tra Padova-Reggiana, ma intanto vediamo le altre gare, come sono andate. San Benettese su Tirol 2-2, Lumezzane-Modena 0-0, Fano-Ancona 1-1, Albinoleffe-Feralpisalò 2-2, Venezia-Teramo 3-1, Gubbio-Maceratese 0-1, Pordenone-Sant'Arcangelo 3-3, Mantua-Bassano-Virtus 1-4, Forlì-Parma 3-5. E Padova-Reggiana, come detto, ancora 0-0. La classifica? Aprono Venezia-San Benettese e San Benettese-Bassano-Virtus a 18 punti. Ferralpisalò, Pordenone 17, Gubbio-Reggiana 16, Parma 15, Sant'Arcangelo 14, Padova 11, Ancona-Albinoleffe-Maceratese e Modena 10, Lumezzane 9, Teramo-Suttirol 7, Mantua-Fano 6 e chiude Forlì a 2. Ovviamente la classifica è aggiornata a questo momento, nel senso che se finisse 0-0 sarebbe questo, ovvero la Reggiana affiancherebbe il Gubbio, se invece dovesse vincere arriverebbe a quota 18, il Padova sarebbe a 11, vincendo salirebbe a quota 13. Ma ricordiamo anche i nostri indirizzi, perché mi diceva Ubaldo con l'Agelli poco fa nella pausa, che insomma già cominciano ad arrivare i primi messaggi, ricordiamoli per gli amici a casa. Sì, potete inviare un SMS al numero 333-1646-678, potete inviare un'email all'indirizzo fuorigiocochiocciolatrgmedia.it, oppure tramite i nostri profili social, quindi tramite Facebook alla pagina TRG Media, oppure tramite l'account Twitter TRG Media, scrivendo l'hashtag fuorigiocotrg. Ma non indugiamo oltre, come ho detto tantissimi temi in questa serata, cominciamo subito da Daniele Castigaghi, tra poco vedremo i primi filmati, ma intanto analizziamo la gara prima di entrare negli episodi più caldi. Partita a viso aperto, un Gubbio che ha guidato, ma anche una marceratese che ha risposto. È stata la gara che vi aspettavate, che avevate preparato? Sì, sapevamo che non sarebbe stata una partita semplice. Loro sono venuti sicuramente molto chiusi a giocare al Barbetti, infatti si è visto, poi anche dal primo tempo hanno già iniziato a perdere secondi su ogni palla. Comunque noi siamo riusciti a imporre il nostro gioco e siamo riusciti ad andare in gol due volte, che poi da quello che mi hanno detto anche il primo gol annullato Ferretti, anche quello era buono. Però abbiamo continuato a fare il nostro gioco, ma alla fine è andata come è andata. Non è bastato. Alla fine del primo tempo eravamo in tribuna stampa, poi vedremo anche una foto più tardi insieme con Federico. Federico mi ha detto questa frase, la partita si è aperta, perché era stata chiusa fino a un certo punto. Come l'avevi vista? Sì, fino al ventesimo circa è stata una partita molto tattica. La masceratese, come diceva Daniele, è venuta a fare una partita abbastanza chiusa, però non rinunciataria sicuramente. Poi intorno al ventesimo, su un disimpegno sbagliato, una palla recuperata da Ferretti, che è andata al tiro, quando probabilmente poteva premiare l'inserimento proprio di Daniele. Diciamo, lì si è aperta, ci sono state occasioni da ambo le parti, c'è stata la traversa di Marini, ci sono state una bella parata di Narciso, l'occasionissima della masceratese con De Grazia proprio davanti a Narciso, e poi un tiro bello di Candellone da fuori aria. La partita è stata vivace dal ventesimo in poi. Una partita che probabilmente a livello proprio di occasioni si è chiusa al primo del secondo tempo, sul palo sempre di Cassiraghi, a parte poi un'occasione della masceratese di Petrilli, però a quel punto lì non so se sono calate un po' le energie, se le due squadre che in 25 minuti della seconda fase del primo tempo hanno speso tantissimo, probabilmente hanno cominciato a pensare che anche un pareggio non era male. Poi c'è stato l'episodio del novantesimo. All'episodio ci arriveremo e poi lo analizzeremo con Riccardo e con Luca, perché gli episodi che abbiamo preso in considerazione sono due, Cassiraghi faceva riferimento anche a un altro gol annullato, francamente noi abbiamo preso quello del trentaduesimo, è sembrato veramente clamoroso. Ma intanto, Claudia, ricapitoliamo tutto quanto, come è andato, no? Andiamo a vedere cosa è successo tra Gubbio e Maceratese e il servizio di Giacomo Branco. Il Gubbio riceve la maceratese al Barbetti per la nona giornata del girone B di Lega Pro. Maggi, grande ex della partita assieme a Marine e Croce, confermi il 4-3-1-2 mentre l'Umbro Giunti opta per il 4-3-3 con un altro ex, Malaccari in mediana. Prima chance al dodicesimo, Croft di Zanchi dalla sinistra, Valagussa trova la porta con una spaccata acrobatica, gran parata di Forte e poi gioco fermo per fuorigioco di Candellone. Al sedicesimo, disimpegno a rato di perna, Ferretti recupera palla e spari il mancino alto sopra la traversa. La risposta marchigiana arriva al diciottesimo, pregevole filtrante di De Grazia per Colombi che scatta sulla linea del fuorigioco e scarica il sinistro radente. Narciso si distende e respinge. Al venticinquesimo, sugli scudi, la ditta degli ex, angolo di Croce dalla destra, intero destra al volo di Marini che scheggia la parte superiore della traversa. Il match aperto al ventisettesimo quadri taglia in due la difesa e Gubina pescando De Grazia tu per tu con Narciso che esce con tempismo murando il tiro della mezzala ospite. Al trentunesimo, ci prova Candellone con un destra girare diretto all'angolino. Ancora forte, in tuffo, sventi il pericolo. Un minuto dopo, Candellone approfitta di uno svarione del due gattari perna, penetra in aria e conclude a rete. Forte respinge, ma Ferretti mette in gol di testa. L'arbitro De Remigis di Teramo annulla per un fuorigioco apparso misterioso visto che l'attaccante rosso-blu sembra chiaramente dietro la linea del pallone. A nulla servono le poteste ma il Gubbio continua ad attaccare e al trentasettesimo dona ripartenza. Giacomaro serve al limite a Casiraghi, destro potente di poco alto sopra la traversa. Finisce così il primo tempo e dopo una manciata di secondi della ripresa Casiraghi approfitta di un errore di Malaccari e calcia di destro sul primo palo colpendo in pieno il legno complice anche la deviazione con i piedi di forte al cinquantatresimo Turchetta scende sulla destra crosta retratto per De Grazia tiro deviato che termina sui piedi di Petrilli che da due passi mette incredibilmente a lato grazie anche al ripiegamento di Valagussa il match diviene assai più equilibrato e tattico ma gli si gioca la carta a Conti che subentra Giacomaro e al minuto 86 Ferretti croffa dalla sinistra nella zona di Burzigotti a due passi dalla porta ma la retroguardia ospite spazza in corner minuto numero 88 verticalizzazione di Petrilli per il nuovo entrato in campo Palmieri che cade a terra in area sull'uscita di Narciso per l'arbitro e calcio di rigole tra le vehementi di proteste di giocatori rosso-blu e in particolare di Narciso che sembra addirittura rifiutarsi di parare il penalty alla fine sul dischetto va Colombi che con un poderoso mancino mette la sfera all'incrocio dove Narciso non può arrivare per il gol che decide la contesa clima rovente dopo il tipice fischio finale a farne le spese e Rinaldi che viene spuzzo per proteste ora il Gubbio è chiamato all'immediato riscatto sabato prossimo quando alle 16.30 sarà ospite dell'Ancona al Del Conero cominciano ad arrivare i messaggi guardate questi non sono i compiti in classe di mio figlio ma sono i messaggi che arrivano di sopra al nostro preziosissimo Ubaldo adesso ne daremo pian piano insomma ne daremo conto ma intanto coinvolgo subito Riccardo Rossi analizzeremo i due episodi tra poco vedremo il primo proprio con la telecronaca anche del nostro Baldogini originale ma cosa è successo all'arbitro cioè abbiamo visto già i due episodi in questo servizio ovviamente senza rallenty tra poco li rivedremo secondo te dall'ottica di un ex arbitro che cosa può essere successo secondo me non parlerei solamente di arbitro ma parlerei di terna arbitrale perché l'arbitro ha sbagliato sicuramente a mio avviso non è stata all'altezza della partita che gli è stata designata però tutto sommato le colpe più grandi levato all'episodio del novantesimo e l'episodio del finale sono state di guardaline che non hanno assistito completamente l'operato dell'arbitro perché se andiamo a vedere il primo gol annullato a Ferretti l'errore più grave è stato quello del guardaline semmai il secondo errore che può aver fatto l'arbitro è stato quello che ha continuato a secondare i guardaline cioè un arbitro esperto un arbitro che sa il fatto suo che si accorge magari di non essere coadivato in maniera adeguata parla con i guardaline prima cosa fra il primo e il secondo tempo perché il fatto è successo al 32 essimo del primo tempo quindi aveva anche tutto il tempo durante l'intervallo di spiegarsi con i suoi collaboratori e in più se vede che il guardaline non è adeguato inizia a prendere decisioni da solo io almeno quando arbitravo quando mi accorgevo che un guardaline non era ingiornata diciamo oppure era meno esperto oppure aveva qualche problema si iniziavano a prendere decisioni in maniera abbastanza autonoma levato qualche fallo laterale le cose più banali che continuano a fare le guardaline però l'arbitro è andato in confusione secondo me soprattutto il guardaline i due guardaline sì sì perché poi nessuno dei due ha sbagliato i due guardaline ma più che altro è stato un controfallo fischiato insomma nei minuti finali la partita Daniele penso che qui questa sera può confermare ma l'abbiamo vista tutti non è stata una partita difficile dal punto di vista agonistico caratteriale non è stata una partita cattiva quindi è stata segnata da questi episodi che però purtroppo non è la prima volta che capitano al Gubb in questa stagione e purtroppo condizionano i risultati delle partite tra poco vedremo proprio analizzeremo i due episodi un flash con Luca Tass non è stata neanche una partita difficile sul piano dell'ordine pubblico due tifoserie assolutamente tranquilli guarda una partita tranquillissima anche perché gestite in maniera tranquilla senza nessun problema né dall'una né dall'altra parte quello che io ho notato è che c'era un pochettino di tensione quando noi facciamo la riunione con il briefing all'interno dello spogliatoio c'era un po' prima della partita c'era un po' di tensione questo non lo so perché c'era un po' di tensione e poi questa tensione l'abbiamo ritrovata sul campo però si è riversata sul campo primo punto interrogativo c'era tensione prima della gara non capiamo perché ma cerchiamo di capire ma sarà difficile perché è stato annullato questo gol intanto c'è qualche aggiornamento da Padova Claudia si Padova avanti una rete a zero sulla Reggiana sul calcio di rigore di Russo Russo sul calcio di rigore sblocca a minuto 33 siamo il primo tempo dunque già un risultato già si sblocca il risultato di Padova si è sbloccata a Minzeria Palermo Torino ma quello ci interessa un po' di meno ci interessa però intanto sentire la telecronaca di 40 secondi perché abbiamo voluto selezionare proprio tutta l'azione perché qualcuno anche poi sui social si sono scatenati ha detto forse era un fuorigioco candellone sul colpo di testa centro campo vediamo come è andata almeno due occasioni da gol negli ultimi minuti che abbiamo potuto seguire su Lega Pro Channel e nella piattaforma di sportove.tv con la conclusione al ventottesimo di De Grazia sventata dal portiere della Gubbia attenzione alla Gubbia ancora pericoloso il colpo di testa alla rete fuorigioco ancora fuorigioco il più piccolo e il più basso che è andato a segnare di testa e si tratta del giocatore del Gubbio questa volta ci sono le proteste per la formazione del Gubbio con Candellone che è andata a concludere la palla vacante all'interno dell'area di rigore e la conclusione poi per la rete annullata e questa volta si tratta di rete annullata per la formazione del Gubbio al trentaduesimo minuto di gioco le parole di Ubaldo Gini nella telecronaca di SportTube Daniele la sensazione dal campo qual è stata insomma che cosa vi ha detto tu sei stato tra quelli che sono andati incontro all'arbitro a chiedere perché si sono corso subito dall'arbitro perché era veramente inspiegabile aver annullato quel gol lì perché nessuno si aspettava lo annullasse le sue spiegazioni sono state fuori gioco e infatti guardialine nelle immagini si vede che alza la bandierina tra l'altro alza la bandierina quando sul pallone va Ferretti come se sul rilancio di testa Ferretti fosse davanti a tutti se possiamo rivedere tra l'altro anche a rallenti si vede che questa è l'altra angolazione che vi dicevamo qui perché proprio si vede che Ferretti sul tiro di Candellone che poi credo sia toccato dal portiere è nettamente dietro Candellone caso mai fosse stato sbandierato questo ma la situazione ecco la vediamo qua nettamente questa è un'azione regolarissima che anche fosse appunto un passaggio diretto Ferretti si trova dietro il giocatore che effettua il passaggio per cui il fuori gioco non ci sarebbe ma se rivediamo l'azione dall'altra angolazione quella per capirci di sport tube tra l'altro il rallenti è molto efficace si vede Federico che il guardialine alza la bandierina quando va sul pallone Ferretti eppure Ferretti era partito come gli altri ma lui segue l'azione ecco la vediamo qua si aspetta di vedere che va sulla palla poi lo vediamo sullo sfondo e adesso che alza e adesso che va su io ho fatto anche oggi per curiosità un fermo immagine ah ti sei fatto il prof? si sul colpo di testa diciamo appena è partita la palla dal centro campo si vede l'assistente è posizionato anche bene ma si vede anche bene che Ferretti è almeno 2-3 metri dietro i due centrali quindi onestamente si poi con la velocità chiaramente arriva quasi prima i due centrali poi si ostacolano tra di loro si addirittura credo che si siano fatti fallo tra loro si sono ostacolati tra di loro però onestamente io ripeto sembra posizionato bene ma questa è un errore grave però la sensazione che ho avuto io diciamo i primi 20 minuti è che l'assistente maggiormente in difficoltà fosse quello sotto la tribuna sì quest'altro diciamo sì ci sono stati almeno tre situazioni della maceratese una tra l'altro quella di Colombi che va al tiro mi sembrava evidentemente fuori gioco ma dopo dicevamo anche fra di noi cioè sembrava quasi in difficoltà proprio anche a livello di corsa io non so se questa dopo tensione che c'era all'inizio è perché magari c'era uno stato d'animo una situazione fisica prima della partita probabilmente difficoltosa da parte di qualcuno della terra comunque insomma il guerrilaline sotto la tribuna già non prometteva bene l'altro non ha mantenuto neanche perché si è trovato insomma a condizionare è ovvio questa è un'azione che poi condiziona la partita 1 a 0 cambia la partita però detto questo Giacomo se me lo permetti poi parliamo anche della partita certo certo no 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 ma è chiaro parliamo anche della partita però è ovvio quando la partita si sblocca e poi cambia la lettura tattica della situazione noi in ogni caso abbiamo proprio per questo voluto dividere in due parti le interviste che abbiamo effettuato con Maggi e con Croce proprio per sezionare la parte riferita agli episodi poi vedremo anche il rigore da quella riferita alla partita perché merita una riflessione anche alla partita Claudia andiamo a lanciare le interviste sì vediamo insieme il primo blocco di interviste post gara con Maggi e Croce il calcio è bello per questo te puoi fare tutto al meglio o quasi al meglio e non è detto che il risultato è garantito c'è delle variabili durante la partita che non puoi che non puoi condizionare le devi accettare le accetti vai avanti continui a lavorare per quello che sarà la crescita nostra è ovvio che dispiace dispiace perché ti senti un pochino impotente di fronte a certe situazioni io credo che il regolamento parli chiaro se un giocatore avversario fa un passaggio indietro fuori gioco non esiste poi magari andiamo a vedere le immagini e magari è fuori gioco ci ritroviamo sempre a commentare episodi che non rivedendoli fai fatica però ripeto secondo me oggi la partita il risultato è stato fortemente condizionato da cose che non dipendono da noi però credo che oggi non sia passato attraverso il demerito del Gubbio la sconfitta quindi è difficile commentare una partita del genere ecco mi basti pensare anche ai minuti di recupero un minuto al primo tempo tre minuti in secondo se sono stati fermi tre minuti sul calcio di rigore degli episodi che purtroppo ti hanno portato via poi magari far recupero ancora più lungo prendi il 2-0 perché nel calcio non si sa mai però però ecco dispiace il fatto di ci penalizzare oltremisura al risultato alla fine nella gran confusione c'è stata anche l'espulsione di Rinaldi se non vado errato sì mi viene da pensare che è un po' è un po' un epilogo che viene di conseguenza quando ci sono cattive gestioni delle gare poi il nervosismo sale alle stelle e ci viene punito anche in un momento di debolezza quando un giocatore magari è preso dalla rabbia che poi sono momenti perché poi ti passano ed essere marcati a vista così dispiace ecco a volte basta capire anche i momenti possiamo sbagliare noi possono sbagliare gli arbitri peccato che quando sbagliamo noi ci danno due o tre giornate di squalifica o gli allenatori ci mandano a casa e gli arbitri li rivediamo puntualmente sui campi però l'errore fa parte del gioco lo dobbiamo accettare a volte un pochino la mano sul cuore quando finiscono le partite se non succedono grandissime cose puoi anche far finta di non vedere andare a sottolineare o enfatizzare certi episodi secondo me non è proprio giusto ma nei confronti nostri come di tutti gli altri siamo giocatori e addetti ai lavori che cerchiamo di dare il nostro meglio e perdere non piace a nessuno magari una volta chiudi un occhio come facciamo noi con gli arbitri e loro dovrebbero fare un pochino con noi ecco c'è da recriminare più sul eventuale calcio di rigore o non calcio di rigore o sul gol annullato? se posso preferisco non parlare perché non ho mai visto un fuorigioco per retropassaggio però meglio non parlare dai uno dei nostri messaggi il Gubbio merita rispetto non è possibile che ogni santa giornata di campionato sia taroccata da un qualcosa che non sia solo la forza degli avversari questo chiaramente è la voce di un tifoso che ricorda la scuola di Calvarese che fa proseliti c'è questa combinazione Riccardo tra la città d'origine di Deremigis e il famoso famigerato Calvarese che insomma col Gubbio ne ha combinate di cotte di crude però la carriera alla fine l'ha fatta perché insomma tuttora è in serie quindi evidentemente portiamo fortuna buttiamola buttiamola così non abbiamo aggiornamenti Claudia giusto? si è finito adesso il primo tempo primo tempo 1 a 0 Padua Reggiana vediamo il secondo il secondo episodio che commentiamo insieme poi andiamo ovviamente ad analizzare la partita secondo episodio sempre con la telecronaca di Ubaldo Gini Maceratese che riparte pallone in profondità esce Narciso l'arbitro si porta il fischietto in bocca calcio di rigore per la Maceratese per la Maceratese guardate le proteste di Narciso il calcio di rigore per la Maceratese attenzione proprio sul finale di gara tante le proteste da parte dei giocatori del Gubbio a testa bassa Maggi non ha più parole il tecnico del Gubbio Riccardo forse qui qualche dubbio in più ci può stare anche se la palla sembra che venga paradossalmente questo è un rigore che al 90s è ma fondamentalmente si può dare perché rivedendo le immagini più volte si nota che la palla viene schizzata dall'intervento di Narciso quindi molto probabilmente lui ha toccato prima la palla e poi il giocatore il giocatore naturalmente ha accentuato la caduta perché non gli sarà parso vero di avere quell'occasione però a velocità normale questo si potrebbe anche dare il rigore quindi non è così scandaloso secondo me è stato abbastanza inusuale per esempio il fatto che l'arbitro ha imposto a Narciso di non stare sul palo perché da regolamento Narciso potrebbe stare benissimo sul palo e quindi vista l'esperienza di Narciso io mi sarei aspettato fino alla fine che lui rimaneva sul palo facendosi buttare fuori lì a quel punto il Gubbio avrebbe potuto poter stare per un errore tecnico per un'espulsione diciamo ingiustificata però anche lì si è visto proprio il comportamento dell'arbitro che è stato diciamo molto fiscale e puntuale solamente nei confronti del Gubbio io non dico non voglio credere a una premeditazione perché non credo ai complotti queste cose non ci penso però dico che un arbitro quando viene a Gubbio essendo una neopromossa hanno mandato un arbitro che ha fatto solamente sette partite in C1 un guardaline che era l'esordio in Lega Pro che è il primo anno che fa il guardaline in Lega Pro l'altro guardaline che è un secondo anno secondo me il Gubbio deve incominciare la società del Gubbio deve incominciare a chiedere alla Lega Calcio che venga trattata alla stregua degli squadroni e dei nomi che abbiamo in questo girone perché se andiamo a vedere le nuove partite del Gubbio abbiamo avuto cinque arbitri che sono fra i primi due anni di Lega Pro solamente un arbitro al terzo anno mentre andiamo a vedere squadre come il Venezia il Parma sempre per fare i soliti nomi che hanno arbitri più esperti guardaline più esperti questo non implica che magari sbaglia anche il guardaline più esperto può sbagliare anche l'arbitro che va per la maggiore e magari è predestinato a salire di categoria però una protesta in questo senso secondo me il Gubbio dovrebbe fare anche perché andavamo a fare una partita dove paradossalmente il Gubbio poteva ritrovarsi prima in classifica e la maceratese aveva perso la partita di martedì e quindi aveva il dente avvelenato perché si trovava in una situazione di classifica abbastanza precaria quindi non era una partita facilissima sulla carta quindi secondo me la protesta pacata diciamo che deve fare il Gubbio verso la la Lega Calcio è quella di avere più rispetto sulle designazioni arbitrali Luca ci racconti un pochino il finale perché poi vedremo qualche immagine fine gara dopo questo recupero la Rinaldi viene spulso insomma clima abbastanza acceso un secondo per quello che ha detto prima ti posso garantire che la Gubbio Calcio già ha fatto questo questo percorso poi sentiremo pannacce esatto quindi oggi sono riuniti ha già fatto questo percorso per chiedere quello che stavo dicendo prima dunque io stamattina leggendo i giornali ho trovato una notizia un pochettino particolare mi hanno chiamato alla questura che cosa era successo che non era successo io l'ho visto l'ho vissuto in prima persona perché noi abbiamo l'articolo 2 del 9 che in caso di dobbiamo andare a scortare l'arbitro portarlo dentro se no veniamo multati o addirittura squalificati se vedete io mi accosto con uno steward e porto dentro chiedo al direttore di gara di allontanarci di portarci verso il tunnel mentre camminavamo quindi ci indirizzavamo verso il tunnel lui mi fa sono stato colpito da una pietra cosa che io guardo non c'era assolutamente niente però io ho detto guardi è meglio che ci spostiamo andiamo dentro così è finita quindi tutta questa questa confusione io non l'ho notata non l'ho vista tanto che poi sono rientrato dentro di spogliatoia ad accertarmi di quello che era successo come andava l'arbitro mi ha garantito che andava tutto bene e quindi non c'era non c'era problema è vero che all'interno del campo c'è stata tanta confusione forse è una confusione un pochettino più accettata tra l'altro mescolata fammi aggiungere a una scena bellissima quella delle due squadre che andavano a salutare i tifosi esatto facevano festa era paradossale questo addirittura Maggi è andato anche ad essere acclamato dai tifosi da Macerati si ricordavano di lui è rimasto poi tutto questo discorso credo che anche l'arbitro doveva un attimino come avete detto prima cercare di smorzare gli animi perché anche l'animo di dare il cartellino rosso non è che c'è stata una foga diretta sull'arbitro quant'altro eravamo tutti lì quindi si capisce anche magari l'impasi della persona che al 91esimo quando prendi un rigore due goli sono stati annullati quindi va anche vista un po' di buonsenso questo lo chiediamo tutti lo chiediamo dall'inizio della gara a partire dagli Stewart per arrivare all'arbitro questo secondo me non c'è stato però poi è normale che dentro lo spogliatoio è partito il battibecco ci sta i tifosi che hanno praticamente un pochettino caricato con parole il direttore di gara ma questo su tutti i campi avviene quindi non possiamo di che resta verbale assolutamente non possiamo penalizzare ormai una città una tifoseria che anche ieri cioè sabato ha dimostrato secondo me una tranquillità assoluta quindi confrontandoci con i giocatori applaudendo i giocatori anche a fine partita questo sarebbe per me l'assurdo a proposito di questo poi chiuderemo questo capitolo con l'intervista a Giuseppe Pannacci perché ovviamente la società come ha detto Luca Tasso si è mossa domani ci sarà comunque sicuramente il risponso da parte del giugno sportivo vedremo come andrà si è mossa lo sentiremo tra poco noi una piccola parentesi la apriamo ma velocissima con riferimento ha detto diciamo Luca a un episodio poi è accaduto sabato sera in un ristorante diciamo in una frazione di Gubbio dove si trovavano appunto a cena i tre giudici di gara noi abbiamo avuto l'opportunità di parlare proprio oggi con il gestore che ha diciamo ridimensionato un pochino quella che erano state le ricostruzioni della primissima ora un gruppo di ragazzi è arrivato all'ingresso del locale uno solo è entrato ovviamente ha chiesto così informazioni in merito ai tre che erano stati indirizzati da un albergo al ristorante avevano chiesto una sala riservata alla fine compresa un pochino l'atmosfera il gestore ha comunque gestito proprio in senso stretto la situazione ha evitato qualsiasi contatto sono stati per precauzione chiamati i carabinieri che peraltro quando sono arrivati i ragazzi che erano fuori non c'erano più tutto è rimasto confinato a qui e alla fine comunque i giudici sono stati accompagnati dopo aver consumato normalmente la cena se volete abbiamo anche il menù ma insomma quello evitiamo sono stati accompagnati nel loro albergo prima di passare a parlare della partita però chiudiamo proprio questo capitolo con le parole di Giuseppe Pannacci la società che cosa dice 24 ore dopo più tardi sentiremo anche sulla partita in generale Federico Giunti ma intanto andiamo a sentire il direttore sportivo del Gubbio l'abbiamo intervistato proprio oggi siamo con Giuseppe Pannacci direttore sportivo del Gubbio Calcio la società come intende reagire a quello che è successo sabato sera ma guarda diciamo che la situazione va divisa in due step uno per quello che riguarda concerne il discorso della partita che è stato sotto gli occhi di tutti quindi che ha visto la partita ha visto un Gubbio determinato un Gubbio che ha fatto la sua partita indipendentemente da quelle che sono state le dichiarazioni dei diretti interessati alla fine della partita col quale avevano portato in porto a casa a tre punti quindi erano contenti ne avevano ben ragione su alcune situazioni che sono stati degli episodi veramente inconcepibili dietro questo noi ci siamo mossi perché ormai non è la prima volta che succedono queste cose quindi di concerno con la società a nome del presidente Salmonotali abbiamo indirizzato una nota al presidente della Lega per far presente appunto ma attenzione non una nota polemica una nota che deve servire a 360 gradi per tutti perché poi quando si vedono designazioni e arbitri come quelli che si sono visti sabato a Gubbio le problematiche poi sono una conseguenza di quello che è l'operato una specie di dossier per ricostruire quello che è successo credo durante e dopo la partita comunque credo che alla fine anche i fatti che sono successi nel posto siano un po' da ridimensionare rispetto a quanto è uscito in giornata sicuramente sì forse determinate cose quando vengono poi in qualche mani portate a conoscenza dell'organo pubblico vengono enfatizzate vengono ingigantite non capendo quelle che possono essere poi i riscontri e i rovesci di quello che effettivamente poi la società può andare quindi se ne parlano da due giorni se ne parlano di tutte di più quando in realtà poi anche nell'incontro quindi nella visita che hanno fatto alla Terma Militare non c'è stato nessun tipo di diciamo collusione quindi nessun tipo di contatto fra quelli che potevano essere i 10 o i 15 o i 20 sostenitori in definitiva direttore cosa vi aspettate diciamo nelle prossime ore da quello che uscirà fuori anche nelle sedi opportune guarda quello che ci aspettiamo lo possiamo in qualche maniera presupporre ma sicuramente ce lo teniamo noi perché quello che noi possiamo in qualche maniera aspettarci poi chi è che decide è sempre l'organo federale e quindi sono loro che decidono quelli che possono essere i provvedimenti io dico solo ed esclusivamente una cosa che Gubbio la Gubbio Calcio i tifosi e i gubbini stanno vivendo un entusiasmo con la propria squadra fuori alla norma facciamo sì che automaticamente questo entusiasmo non possa sfociare in delle situazioni penalizzanti per tutti quindi noi abbiamo questa squadra che attualmente ci sta togliendo ci sta dando delle grandi soddisfazioni e in tutto e per tutto dobbiamo analizzare quelle che possono essere le situazioni e i rovesci della medaglia in maniera negativa quando uno va a analizzare quello che effettivamente un arbitro che sabato ha arbitrato la partita quindi abbiamo visto in che condizioni e in che stato d'animo effettivamente uno era il giudizio sportivo si basa su quelli che sono iscritti non su quelli che possono essere comunque sia delle supposizioni oppure delle analisi il dire io non ho fatto niente o io ho fatto poi è tutto a Letonia vedremo cosa ci sarà scritto nel referto dell'arbitro lo capiremo domani intanto continuano ad arrivare i messaggi ora che la società chieda spiegazioni di questo accanimento contro il Gubbio ma ormai la sensazione è che ci sono squadre blasonate che hanno speso molto e non possono fallire l'obiettivo addirittura un tifoso si chiede la sezione arbitri di Gubbio può farsi sentire questo francamente credo di no scusate ma è rigore dice un altro tifoso siamo obiettivi questi filmati mandate le disegnatori degli arbitri non si designa un arbitro di Teramo quando il Teramo è nel nostro girone questo insomma il clima dei nostri telespettatori noi ci avviciniamo alla anzi andiamo alla pubblicità credo che non si è ricominciato il secondo no ancora no quindi sempre 1-0 Padova Teramo noi andiamo in pubblicità e poi analizzeremo la partita sentiremo ancora Maggi e Croce sentiremo i nostri ospiti sull'aspetto tattico della gara avremo al telefono Federico Giunti e avremo ovviamente altri filmati cecchini e abbigliamento uomo donna bambino sarabanda annarita n che guapa penny black amachio kiwei contatto five preview il direttore Franco Pinna è lieto di accogliervi al Castello Corte Vecchio il Castello Corte Vecchio a pochi chilometri da gubbio immerso nel verde in un'atmosfera da sogno renderà indimenticabili le tue cerimonie nei tuoi banchetti inoltre lo chef tutti i giorni propone la grande varietà della cucina Umbra rivisitata con sapiente maestria in un ambiente raffinato ed esclusivo e ricorda Corte Vecchio organizza tutte le settimane di tutto l'anno cene a tema è versatile durabile e resistente può assumere qualsiasi forma per costruire edifici sicuri e architettonicamente belli in grado di conferire armonia alle città e ai territori ambienti sostenibili e intelligenti in cui abitiamo lavoriamo e costruiamo relazioni infrastrutture che migliorano la qualità della nostra vita ci proteggono dalle calamità naturali e rendono più belle organizzata la città cemento e calcestruzzo dopo più di 2000 anni sono prodotti che realizzano spazi per vivere meglio Colacem Colabeton tecnologia innovazione e sostenibilità si si continua intanto la discussione qua sugli episodi tra poco analizziamo la partita io non ho chiesto a Daniele a Federico sull'episodio di rigore che ne pensano Daniele penso che anche dalle immagini si veda che comunque la palla cambia direzione sul tocco di Narciso poi Narciso comunque ha Narciso non si è dato pace conoscendolo e vedendo l'esperienza che ha se deve protestare così è perché proprio è sicuro di non averlo toccato quindi anche quello è inspiegabile quando l'hai visto sul pallo che non voleva parare che hai pensato come diceva prima anche mio papà ha fatto l'arbitro in passato e lui sul pallo volendo poteva stare anche lì l'arbitro andando a digli spostati esatto ma poi io noi stando in campo abbiamo visto proprio che è andato in totale confusione addirittura chiedeva ai giocatori della maceratese se Narciso avesse toccato l'attaccante cose che un arbitro un arbitro aiuto ma forse dalle persone meno indicate insomma Federico non credo che quando un attaccante va giù lì e gli danno rigore adesso il premi Nobel va bene che insomma siamo freschi di premi Nobel ma insomma non credo ci sia l'attaccante che dice beh no mi ha toccato la palla no ma anche perché onestamente dalla dinamica è un rigore che ci può stare però quando c'è il tocco del portiere anche se lieve va sulla palla diciamo la dinamica è un conto però la realtà dei fatti è che secondo me non era rigore però ripeto non è un rigore scandaloso certo ne abbiamo visti di peggio purtroppo questo l'abbiamo visto però andiamo a vedere anche analizzare la partita prima di sentire proprio sulla partita Maggi e Croce io chiedo a Casiraghi Gubbio che ha difficoltà ad andare in gol lasciamo stare ovviamente le azioni annullate però insomma di gioco ne avete macinato tanto di cross in mezzo ne avete fatti tanti tu ti sei messo tra le linee hai macinato anche chilometri credo che la partita sia stata fatta bene abbiamo cercato di imporre il nostro gioco abbiamo colpito una traversa sul calcio d'angolo un palo e comunque due gol li abbiamo fatti poi annullati dai video si vede bene anche ingiustamente quindi comunque le occasioni ci sono state purtroppo è stata un po' condizionata la partita Federico da osservatore asettico era la prima partita che vedevi del Gubbio era una partita da 0 a 0 da 1 a 1 lasciando stare gli episodi contestati probabilmente era più una partita da 1 a 1 perché numericamente il Gubbio sicuramente ha avuto più occasioni ha calciato più volte in porta ha preso un palo una traversa però bisogna dire che probabilmente le occasioni più nitide diciamo più clamorose le ha avute la maceratese quindi nel complesso secondo me era una partita che il Gubbio avrebbe potuto vincere i punti il pareggio diciamo che dalla metà del secondo tempo era un risultato che sembrava che potesse stare bene entrambe le squadre detto questo la maceratese non ha rubato assolutamente niente dal mio punto di vista perché è una squadra che è venuta con un'idea ben precisa che ha messo in pratica tattica e la squadra i giocatori anche più di qualità vedi Petrilli e Turchetta si sono sacrificati ha avuto delle due buone occasioni in un paio di ripartenze quindi la maceratese ha fatto il suo il Gubbio secondo me tatticamente ha trovato delle difficoltà proprio perché la maceratese si è chiusa bene le linee di difesa e di centrocampo in tante situazioni hanno impedito proprio a Casiraghi da trequartista di entrare in gioco come ha fatto altre volte e quindi era costretto in alcune situazioni anche un attimino a defilarsi l'unico aspetto tattico diciamo visto anch'io come ex giocatore come allenatore probabilmente specialmente con le mezzali magari di cercare di dare un po' più di allargare un po' più il gioco di dare un po' più ampiezza ma per dire la verità mi è sembrato che Maggi a un certo punto abbia proprio chiamato a un certo punto del primo tempo Giacomo Arro credo proprio per dirgli questo ma sono cose che sicuramente ci lavoreranno quello che non sarà contento Maggi penso che quella linea di passaggio data in occasione del calcio di rigore io secondo me lui la analizzerà non lo dice ai microfoni ma va bene a caldo dopo ci sta però penso che al novantesimo quella situazione con Petrilli che ha dato una bellissima palla in verticale ma una palla rosoterra secondo me fra terzino e centrale lì lo devono chiudere sì sentiamolo proprio Maggi insieme a Croce sulla partita credo che sia anche difficile commentare il risultato di per sé io credo che il Gubbio abbia provato a fare la partita ha trovato delle difficoltà che sapevamo di trovare ieri avevo accennato un pistico di fortuna a prendere una traversa un palo e concedere il minimo sindacale ai nostri avversari di più non possiamo fare ecco io credo che è difficile rimproverare qualcosa alla mia squadra quindi da una parte sono contento dall'altra cerchi di vedere il bicchiere mezzo pieno c'è una sconfitta in casa però credo che la sconfitta sia determinata da fattori nei quali noi possiamo fare poco ecco la gran mole di lavoro tantissime traversioni all'interno del rigore purtroppo si ripresenta il problema della finalizzazione sì è un po' quello che è un po' quello che è l'inizio dell'azione nostra cerchiamo sempre di costruire dal basso perché non avendo particolari centimetri in zona dare di rigore è difficile poi giocare con la palla lunga e attaccare la seconda palla poi trovi squadre in casa che si chiudono e ripartono proprio con questo tipo di gioco e un po' le soffriamo però ecco ripeto ai ragazzi faccio fatica a rimproverare grandissime cose poi si può migliorare ed è giusto migliorare e andremo ad affrontare le cose che non si è riusciti a fare io credo che oggi invece noi abbiamo perso uno scontro diretto per la salvezza e quindi questo è il nostro obiettivo il punto di vista ripeto dispiace perché poi se fosse finita 0-0 magari la partita sarebbe stata un pochino come la previsione di ieri è un po' bloccata noi abbiamo cercato di fare qualcosa in più però non ci siamo riusciti il palo e la traversa è vero che anche loro hanno preso un palo ma da palla ferma quindi fosse finita in pareggio mi sembra un po' di commentare la partita col Padova col Padova abbiamo fatto tutto noi con loro magari non è proprio colpa nostra però il risultato non cambia però deve rimanere la consapevolezza di essere sulla strada giusta noi cerchiamo di giocare e dove arriviamo dove arriveremo non lo so però credo che giocando hai più possibilità di fare il risultato piuttosto che non farlo purtroppo il risultato ci dice ci dice che abbiamo perso però non sento di dire comunque la nostra partita l'abbiamo fatta sono gli episodi che come magari ci hanno dato favorito altre volte questa volta ci sono andati contro perché comunque la partita l'abbiamo fatta sempre e solo noi è un episodio a 5 minuti alla fine ci hanno dato contro dobbiamo migliorare anche in questo a questo punto perché la seconda volta che ci capita soprattutto anche col Padova quindi dobbiamo cercare di migliorare anche questo che cosa è mancato al di là poi delle decisioni arbitrali e tutto quello che ne è venuto fuori ha mancato se vediamo abbiamo creato tantissime occasioni ci è mancata la stoccata vincente perché comunque penso che abbiamo giocato a lunghi tratti a una metà campo sola poi il calcio però è questo conta chi la butta dentro loro sono stati bravi a crearsi l'episodio e dobbiamo migliorare anche in questo a cercare di non creare questi episodi che possono svantaggiarci come le decisioni dell'arbita che comunque non sta a noi decidere credo che noi dobbiamo essere bravi a far tesoro di quello che abbiamo fatto fino ad oggi non pensare di fare il passo più lungo della gamba e andare a giocarci la partita e poi alla fine vedere cosa siamo riusciti a portare a casa io vedo la squadra in salute gioca sbagliamo alcune cose però a volte gli errori nostri sono condizionati dalla troppa voglia di fare non dalla mancanza quindi è un errore un difetto che è più facile anche correggere e lo spirito anche questo sorriso di Maggi con cui siamo a caldo quando sono state registrate queste interviste non le abbiamo fatte oggi quando ancora gli spiriti erano molto bollenti questo significa essere in qualche modo Riccardo anche una guida per la squadra saper tenere i toni giusti dire le cose come stanno perché Maggi non è che non ha ricriminato però insomma ha detto guardiamo avanti sicuramente questo penso che sia l'atteggiamento che sia tutta società ma soprattutto il mister i giocatori più esperti devono tenere anche perché ormai la partita è andata l'arbitro ha messo del suo tutto quanto però non è che si possono esasperare gli animi e continuare a fare la polemica infinita anche perché poi si paga ancora sulle giornate successive si paga anche a livello di mentalità della squadra e dello spirito della squadra secondo me tra poco risentiamo Luca Tasso abbiamo però una telefonata avevamo annunciata una ma ne abbiamo un'altra perché ci contatta il vice presidente del Gubbio Filippo Barbetti buonasera Filippo buonasera no sono il padre ah Fernando allora mi è stata data un'informazione anagraficamente diversa ma siamo in famiglia Filippo vi mando i saluti della Germania tra modo perché dove questa sera andato per motivi di lavoro ci dica Fernando beh tanto buonasera a tutti gli spiriti sono sempre bollenti caro direttore anche questa sera è difficile raffreddare è difficile raffreddare volevo semplicemente ritornare sull'episodio del don annullato per esattezza di osservazione di informazione non avete messo in evidenza una cosa molto importante che l'assistente dell'arbitro alza la bandierina nel momento in cui quattro giocatori entrano in contatto al limite dell'area di rigore quindi non dà il fuorigioco per passaggio successivo evidentemente lui ha visto un fallo o altre cose solo questo sì beh diciamo che giustamente ci può stare come interpretazione noi infatti abbiamo evidenziato che ha alzato la bandierina quando in particolare uno dei giocatori si avvicinava poi in realtà erano quattro i giocatori presumiamo che abbia sbaglierato un fuorigioco però sì no ma si vede si vede chiaramente ecco guardi lo guardiamo mentre ce ne parla si vede chiaramente sulla trasmissione di Sportube sì sì infatti ha alzato la bandierina quando ecco osservate quando alza la bandierina ecco in questo momento quindi prima ancora prima ancora che la palla avanti prima ancora che c'entra avanti della palla Daniele quindi lui deve aver visto un po' il mistero però resta Fernando è errato parlare di fuorigioco dato con un passaggio a retrato perché noi la ringraziamo ovviamente la ringraziamo per questo contributo diciamo di suggerimento e di chiarezza Riccardo vorreva aggiungere qualcosa sì buonasera Fernando secondo me se fosse come sta dicendo lei conferma ancora di più che la Ternapuritale non era in sintonia anche perché è l'arbitro che dice al guardaline prima della partita dove intervenire ci sono arbitri che dicono magari di intervenire anche su azioni di gioco ma soprattutto quando l'azione si svolge proprio nei pressi del guardaline mi sembra strano che il guardaline abbia consigliato un fallo al limite dell'area all'arbitro perché in questo caso l'arbitro significa che proprio davvero non aveva nessuna competenza quando siete andati diciamo a circondare l'arbitro l'arbitro vi diceva che era fuori gioco sì quindi la sua interpretazione era questa la sua spiegazione è stata fuori gioco l'arbitro era talmente in tale confusione probabilmente sì ne ha detto talmente era soltanto una città per sentire un testimone che era sul posto Federico per interpretazione diciamo più tecnica possibile la disposizione per gli assistenti da un paio d'anni ma quest'anno ancora di più è di aspettare fino all'ultimo momento quando eventualmente il giocatore che lui ritiene in fuori gioco va sulla palla quindi lui sicuramente segnala la posizione di Ferretti che però fino a che non si avvicina alla palla lui sta a vedere perché la palla la può prendere anche Candellone in quella circostanza in quel caso secondo me non avrebbe alzato quando Ferretti arriva probabilmente a un metro un paio di metri dalla palla lui allora segnala la posizione di fuori gioco su questo fermo immagine si vede chiaramente che Ferretti è dietro di almeno su questo siamo tutti d'accordo che sia assolutamente infondato il fuori gioco è proprio è solare come le luci che ci stanno irradiando però è l'unica interpretazione noi cerchiamo di interpretare plausibile un abbaglio diciamo così stiamo cercando di interpretare un abbaglio il che non è facile grazie Fernando buona serata resterà un grande mistero del resto hanno scritto libri sui centimetri di fuori gioco di Turone sul fallo di Ronaldo in aria se qualcuno si vorrà divertire c'è materia insomma stasera l'abbiamo capito anche per Ergolde Ferretti detto proprio alla romana verrebbe da dire intanto a proposito mentre abbiamo novità da Padova raddoppia il Padova 2 a 0 dopo 5 minuti dall'inizio del secondo tempo il capitano Altinier bene Altinier ex Portogruaro ex parecchie squadre ma non ex bomber perché continua a segnare ha segnato stasera con il Padova Padova 2 Reggiana 0 ci sono diversi messaggi tattici per Casiraghi Casiraghi arretrando fino a mezzala nel suo ruolo migliorerà il gioco della squadra dice un tifoso lo ricordo con un grande arpione a palloni e ripartenze fulminanti tu ti ricordi così? no cerco di adattarmi a quello che questo tifoso forse vuole avere più arretrato non so a quello che mi chiede il mister e cerco di farlo al meglio falso nueve qualcuno dice sei falso nueve ti senti falso nueve no 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 l'importante è che sei il vero Casiraghi l'importante è che si faccia bene quello che ci chiede il mister qualsiasi ruolo sia vale per tutti l'importante è che si scenda in campo e che lo si faccia al meglio è anche giusto ricordare qui Luca ti coinvolge anche sul piano un po' del tattico insomma Maggi ha tre attaccanti su sei in infermeria insomma è difficile anche scegliere assolutamente sì io credo che le sta gestendo molto bene quello che in questo momento succede per le persone che ha forse ci manca un po' di fortuna perché anche la fortuna fa parte del gioco ma quando non ce l'hai e quindi vedi che è dura esatto sostituirla esatto è dura sostituirla tra poco possiamo andare con la telefonata del nostro ospite ci stiamo provando mi dicono dalla regia davanti secondo te servirebbe Riccardo qualche soluzione diversa? Casiraghi visto che l'argomento lo vedi meglio trequartista no no io Casiraghi lo vedo bene lo vedo bene come sta beh sicuramente queste prime nove giornate di campionato ci hanno detto che abbiamo avuto degli infortuni e quindi alcuni giocatori ancora non possono essere nemmeno giudicati a pieno tipo Musto che ha fatto bene magari le prime giornate poi si è infortunato lo stesso Ferri Marini che è infortunato da lungo tempo ha reclamato in un altro messaggio quello che magari però viene in mente sin da quest'estate sin dalla campagna acquisti insomma che faceva il gubbio che ha fatto il gubbio che una punta magari con più esperienza per la categoria farebbe comoda questo gubbio ora come ora però io sono anche dell'idea che fino a gennaio secondo me il gubbio deve restare così perché vedendo i nomi dei svincolati vedendo i prezzi dei svincolati secondo me non vale la pena adesso muoversi sul mercato per la punta aspettando anche gli infortunati poi a gennaio si vedrà se il gubbio avrà una situazione in classifica che richiede una punta per magari ambire qualcosa di più della salvezza sicuramente la società saprà valersi sul mercato di gennaio a proposito abbiamo il collegamento ma prima abbiamo proprio una notizia Claudia sulla maceratese che riguarda proprio i svincolati poi sentiamo il nostro ospite se ce la conferma il centrocampista Alessio Cannoni ex Fondi Savona e Propatria è pronto a firmare per la maceratese l'accordo con il giocatore attualmente svincolato verrà ufficializzato nelle prossime ore verrà ufficializzato nelle prossime ore magari ci sa rispondere su questo Federico Giunti tecnico della maceratese buonasera Federico buonasera a voi grazie ovviamente noi sveliamo questo piccolo arcano ti abbiamo intervistato nel dopopartita non è che ti abbiamo trascurato ce lo puoi testimoniare anche tu diciamo che per un piccolo problemino di carattere tecnico abbiamo preferito sentirti dal vivo al telefono intanto dici subito se arriva questo nuovo acquisto alla maceratese ma guardate il nome che è stato fatto ma ancora non c'è niente di certo quindi credo che dovremo aspettare ancora qualche giorno invece non aspettiamo per sentire la tua valutazione a questo punto a freddo sono passati due giorni sulla partita diciamo che negli spogliatori durante le interviste il clima era abbastanza acceso sì chiaramente perdere parlo dalla parte di Guglio perdere in quel modo all'ultimo momento chiaramente scoccia sarebbe stata la stessa cosa se fossimo trovati noi in quella condizione quindi insomma mi sento anche di capire di capire insomma i giocatori allenatore l'ambiente e tutto però insomma io cerco di fare una valutazione un po' più più ampia è stata una partita che poteva andare da una parte o dall'altra siamo stati come dire bravi fortunati trovare questo episodio finale che l'ha indirizzata verso di noi però insomma penso che è stata una bella partita due squadre che sono affrontate in ogni caso senza nessun timore reverenziale hanno fatto quello che dovevano fare quindi da questo punto di vista almeno credo che chi è venuto a vedere la partita sia divertito non ha visto una partita assolutamente bloccata a parte forse i primi minuti anche una partita aperta tutti i risultati ecco poi è andato come è andato certamente senti su un flash su due episodi il tuo pensiero su quali episodi diciamo i due che abbiamo analizzato il gol annullato al gubbio nel primo tempo e ovviamente il rigore sì allora il gol annullato al gubbio cioè io per me è talmente chiara la situazione che non è neanche come dire da parlarne però chiaramente che il guardanine credo Federico Varontini abbia dato un'interpretazione giusta se fate il fermo immagine perché me lo sono rivista almeno dieci volte sul rinvio di Forte poco prima che sta colpendo di testa Rinaldi si vede chiaramente che Ferretti è un metro o due più dietro di Ventola e di Berna che sono i due che sono ripresi dall'immagine non si vede Gattari ma questo mi porta a pensare che il guardanine vede il fuorigioco di Ferretti poi la palla schizza verso la porta Ferretti dal momento che entra e che va verso la palla chiaramente il guardanine attende perché questa è la nuova regola la nuova disposizione che viene data è costretta ad alzare la bandierina se ha visto fuorigioco e che è quello che è accaduto quindi non si può neanche parlare di gola annullato e sul rigore? sul rigore che vi devo dire il rigore che è chiaro al novantesimo si può dare come non si può dare perché non è così scandaloso però insomma non saprei anche dall'immagine della televisione si capisce poco il mio giocatore chiaramente mi posso basare su quello che ha detto lui che le mani del portiere chiaramente lo prendono però mi fermo perché non è questo sull'altro episodio sono quasi certo che le cose sono andate in quel modo quindi insomma da parte mia non è neanche commentabile poi certo poi gli allenatori vedono la partita ovviamente a 360 gradi e su 90 minuti è comunque un campionato molto equilibrato così a inizio apro anche il capitolo campionato con gli ospiti ma comincio proprio da Federico Giunti che è al telefono stiamo sentendo con la nostra Claudia che la Reggiana sicuramente tra le più quotate squadre sta perdendo a Padova un Padova che qualche settimana fa abbiamo visto a Gubbio francamente non ci ha fatto ha fatto una bella impressione anzi dicevamo la maceratese se l'è giocata mentre il Padova si è stato rintanato nella propria metà campo praticamente per 90 minuti quando ci si capirà qualcosa di questo girone Federico? ma intanto hai parlato di due squadre che una l'abbiamo affrontata lì a Padova e una l'affronteremo più di sabato quindi io ho visto stavo guardando la partita per quello qualche battuta vostra me la son persa e stasera il Padova sta facendo una partita totalmente diversa da quella che ha fatto a Gubbio perché ha affrontato la Reggiana a viso a viso a persa e la sta giocando e i risultati stanno avendo ragione quindi come dire sono squadre però queste costruite per fare un altro tipo di classifica rispetto alla nostra e probabilmente in partenza anche rispetto a quella che doveva essere del Gubbio il Gubbio però sta dimostrando questo primo scorso di campionato che come dire l'ho detto anche a te quando ci eravamo sentiti il proseguimento della stagione scorsa e del progetto tecnico partito l'anno scorso sta dando come dire i suoi frutti anche quest'anno perché chiaramente partire con un blocco di giocatori della passata stagione con lo stesso allenatore quindi con una squadra che già conosce quello che che vuole il proprio allenatore e chiaramente sono stati inseriti poi altri giocatori va da sé che è una squadra che sicuramente in vantaggio rispetto alle altre e non mi stupisce infatti la classifica che ha il Gubbio un'ultima battuta Federico un'ultimissima battuta è veramente vuole essere una battuta i tifosi del Gubbio cantavano noi vogliamo questa vittoria i tifosi da Maceratese cantavano noi vogliamo un presidente non ti chiedo ovviamente però insomma la situazione si tende come dire a chiarirsi a Macerata sul piano così generale quello che può dirci è ormai da un mese che va avanti una trattativa come una cordata della quale ancora non si conoscono gli attori principali abbiamo conosciuto di persona solo gli intermediari sono degli avvocati che fanno la tramite per portare a buon fine ma quindi fermo perché come dire ad oggi il nostro punto di riferimento resta assolutamente la presidentessa Tardella che ha tuttora le quote di maggioranza della società quindi questo è quello che vi posso dire vedremo Federico in bocca al lupo e noi ti aspettiamo uno di questi lunedì anche a Gubbio va bene grazie mille a presto buon lavoro corri entro degli attaccanti infortunati Ferri Marini riprenderà il suo posto Casiraghi arretrerà nel suo ruolo a centrocampo a sinistra e finalmente vedremo il vero Gubbio con un centraganti Musto Candellone questo tifoso ha l'idea molto chiara ti ha già trovato il posto Daniele quindi insomma tu sei sei sistemato l'importante è che non ti metti in panchina in fondo è giusto è giusto così tra l'altro aggiunge l'assenza di Rinaldi che sarà certa sabato prossimo ad Ancona permetterà di rivedere Calombo terzino destro giocatore su cui puntare visto l'ottimo inizio con Suttirole e Lumezzane a meno che non sia magia a scriverci insomma staremmo a vedere può darsi anche che il mister ci manni messaggi sottomentite e spoglie sempre 2 a 0 Claudia si sempre 2 a 0 sempre 2 a 0 noi però dovremmo avere se non salto la scaletta la nostra telepromozione giusto di uno dei nostri sponsor con la telepromozione tutto cartucce linea alla regia con EasyViz basta davvero poco per proteggere ciò che ami facile da installare in wifi e tutto senza fili è spandibile fino a 32 sensori e lo controlli dallo smartphone o dal suo telecomando ah se aggiungi la piccolissima C2 Mini quando scatta l'allarme vedi subito cosa accade proteggi ciò che ami con EasyViz vedrai come è semplice e accessibile avere il tuo mondo sempre a portata di mano EasyViz connette la tua casa in modo facile accessibile e con video ad alta risoluzione le telecamere sono easy to use affidabili e immediatamente connesse condividi la tua vita ovunque tu sia con EasyViz non perderai i primi passi di tuo figlio anche se sei a fare la spesa puoi controllare il tuo cane quando sei fuori non possiamo sempre essere vicino ai nostri cari ma possiamo condividere i momenti più importanti con EasyViz il tuo mondo è sempre a portata di mano EasyViz Happy Your Life ecco il sistema di allarme A1 vediamo cosa trovi all'interno della confezione il kit della centralina di comando A1 comprende la centrale di controllo il telecomando un cavo USB l'alimentatore e la guida rapida multilingua il sensore infrarossi T1 e gli accessori per il fissaggio alla parete adesivi staffa viti e base il sensore T6 per porte e finestre con il cavo di ricarica e i relativi accessori per fissarlo puoi espandere il kit aggiungendo fino a 32 rivelatori tra i quali la sirena T9 con EasyViz basta davvero poco per proteggere ciò che ami facile da installare in wifi e tutto senza fili espandibile fino a 32 sensori e lo controlli dallo smartphone o dal suo telecomando ah se aggiungi la piccolissima C2 Mini quando scatta l'allarme vedi subito cosa accade proteggi ciò che ami con EasyViz vieni a scoprire la soluzione più adatta a te da Tutto Cartucce e diamo un'occhiata alla classifica con la nostra regia perché chiede a Casiraghi così una sua valutazione sul campionato campionato che è veramente fatto di grandi sorprese anche questa settimana chi si aspettava un Pordenone a Valanga sul Sant'Arcangelo Pordenone ha recuperato gli ultimi minuti come col Gubbio un Gubbio sulla maceratese sappiamo come è andato la San Benorettese ha stentato tantissimo lo vedremo tra poco col Sud Tirol il Venezia ha vinto ma soffre sempre e il Parma non ne parliamo insomma ancora è dura a leggerlo il campionato sì sì no è un campionato veramente equilibrato infatti la classifica è molto corta ancora puoi vincere e perdere con chiunque sono tutte partite che si giocano alla pari e gli episodi alla fine fanno la differenza Federica meglio o è peggio per una squadra che deve salvarsi che il campionato sia equilibrato il Gubbio deve salvarsi intanto sì penso che l'obiettivo dichiarato anche giustamente sia quello ma no probabilmente vista la posizione del Gubbio se la classifica si fosse già spezzata magari in due tronconi sarebbe stato decisamente meglio e con la classifica ancora così corta diciamo tolto il Forlì bastano due partite per ritrovarsi magari in una zona un pochino più pericolosa ma io credo che il Gubbio visto anche sabato nonostante nonostante il risultato finale è un Gubbio che quello che mi piace l'ha sottolineato anche Maggi e che si vede è che è una squadra che cerca di impostare l'azione dal basso dal portiere con i centrali che si allargano io credo che alla lunga io che vengo anche dal settore giovanile per cui queste cose si cerca di insegnarle credo che alla lunga sia il modo giusto per ottenere dei risultati per fare strada sì secondo me sì cercare di giocare la palla poi credo che oltretutto per l'organico che hanno non possono neanche prescindere da questo cioè non avendo magari il classico centravanti di riferimento come può avere anche la maceratese perché Colombi onestamente mi ha fatto una bella impressione lì davanti quindi credo che il Gubbio cioè a me onestamente è piaciuto al di là di alcune cose che andrà certamente a migliorare insomma a perfezionare però una squadra che che imposta da dietro una squadra che cerca di giocare anche piacevole a vedersi sì sì no è stata diciamo che è stata dal ventesimo del primo tempo al quindicesimo ventesimo della ripresa diciamo è stato un tempo di un bel Gubbio di una bella partita Riccardo il Forlì sembra insomma l'ultimo è ma intanto lo vedremo tra poco ha fatto tre gol al Parma cioè nessuna partita è diceva tre a due insomma sì ma l'abbiamo visto anche in queste nuove giornate del Gubbio nessuna partita è scontata e soprattutto ancora non si sono visti i valori delle squadre che vengono insomma date per la maggiore perché come hai detto tu il Parma sta facendo fatica il Venezia non è che ha convinto molto la Reggiana la vediamo questa sera che sta perdendo con il Padua quindi per adesso è tutto molto equilibrato ma io sono convinto che perlomeno per come ho visto il Gubbio fino adesso il Gubbio per ora si merita ampiamente la classifica che ha perché ricordiamo che abbiamo perso un paio di partite al 93esimo e quindi potevamo avere benissimo due o tre punti più in classifica a essere davvero prima in classifica quindi secondo me per ora stiamo mantenendo le attese della vigilia e anzi siamo sopra le attese quindi non credo che abbiamo per ora grandi problemi io chiedo invece a Luca tra poco vedremo i gol però chiedo se ci sono tifoserie da bollino rosso sì in questo girono già le abbiamo schematizzate qualcuna è già passata? sì e no a me la San Bernardino di Tese era un pochettino a rischio però abbiamo il Termo sicuramente l'Ancona abbiamo delle partite 5-6 partite da tenere sotto controllo e c'è stato il Padova che insomma ci riporta indietro a quella partita di Serie B sì e quelli che quel giorno avevano fatto erano presenti sui spazi c'erano tutti non si sono dimenticati però lì era stato qualcuno della Lega che aveva fatto la grossa conclusione che aveva dato i biglietti sbagliati tanti gol e tante prodezze ma anche qualche incertezza il portiere del Pordenone è passato un brutto sabato e anche diversi rigoristi abbiamo Casiraghi possiamo dirlo che sei tu il rigorista del Gubbio visto che ti abbiamo visto l'unica volta che è stata la tua rigora al Gubbio diciamo che siamo parecchi in squadra che li calciamo li calciamo bene poi la domenica chi se la sente poi il sabato poi il sabato sì il sabato la domenica chi se la sente tira insomma però insomma secondo me ci torna Casiraghi sul dischetto mi diceva Federico che hai visto diversi rigori ben tirati sì no il suo appunto quello stesso di Colombi al novantesimo piattone sotto l'incrocio ho visto quello in settimana nel recupero di Loviso proprio contro la Maceratese in altro interno piede sotto l'incrocio ho detto ma probabilmente con la nazionale se andiamo a rigori possiamo pescare anche in Lega Pro qualche buon rigorista esatto sarebbe una buona una buona idea tra poco daremo un'occhiata al prossimo turno prima abbiamo l'ultimo flash pubblicitario non prima però di un aggiornamento con la nostra cloud sì siamo quasi alla fine della partita Padova-Reggiana sempre 2 a 0 5 minuti alla fine 5 minuti a chiudere poi vedremo prossimo turno e soprattutto non perdete il rosso e il blu perché rivedremo immagini dannata di Ancona-Gubbio che è la partita di sabato insomma avremo modo di parlarne tra poco BIE ELETTRICA BIE ELETTRICA DARNI SONDI TRIQUILLI PROTEGGENDO LA TUA CASA E I TUOI CARI AFFIDATI A BIE SECURITY D.B. ELETTRICA dal 1979. Tutto è sotto controllo. Le cose che ami da cui non ti vorresti mai distaccare, oggi possono rimanere con te per la tua serenità e sicurezza. Attraverso il tuo smartphone o tablet, B-Security di B-Elettrica, progetta e installa impianti d'allarme, anti-intrusione, video-sorveglianza e video-controllo. B-Security, perché la sicurezza della tua famiglia non ha prezzo. No Free Auto. Auto nuove usate chilometri zero e veicoli commerciali. Assistenza diretta. No Free Auto ti aspetta nelle sedi di Gubbio e Gualdo Tadino. No Free Auto e anche servizio soccorso stradale. No Free Auto. La serietà di sempre. Sabato e domenica presentazione della nuova Megane Sporter. In attesa della conclusione del posticipo tra Padova e Reggiana, 2-0 per i Veneti e classifica che sarebbe ancora, se vogliamo, più corta nelle posizioni di vertice. Aspettiamo il novantesimo, ma insomma può succedere di tutto, ma sul 2-0 siamo lì. Vediamo il prossimo turno con Claudia. Su Tirol e Pordenone, Teramo Albinoleffe, Lumezzane Forlì, Sant'Arcangelo Padova, Reggiana Maceratese, Ancona Gubbio, Ferralpisalofano, Bassano Virtus e San Benedettese, Parma Mantova, Modena Venezia. Ecco, se lasciamo la schermata ci sono gare, oltre ovviamente ad Ancona Gubbio, molto interessanti perché abbiamo sentito, Giunti vuole andarsela a giocare anche a Reggio Emilia e ne ha ben d'onde. Il Pordenone va a Bolzano e soprattutto spiccano, secondo me, Bassano, San Benedettese e anche Modena Venezia. Partite molto interessanti, praticamente Daniele tutta la tripla. Sì, sono tutte belle partite, tutte come sempre equilibrate. dove può succedere veramente di tutto. Certo, ricordiamo ad esempio che il Mantova, che adesso non se la sta passando bene, ha vinto a San Benedetto del Tronto. Strano a dirsi, insomma, vedendo la classifica in questo momento, ma il Parma fino adesso ha sempre sofferto un po'. Federico, se dovessi giocare un euro su una squadra da qui alla fine del campionato è davvero impossibile? Ma io l'idea che mi ero fatto inizialmente era che il Venezia potesse alla lunga avere qualcosa in più delle altre, però insomma ci sono squadre, ci sono squadre, anche lo stesso Parma che secondo me alla lunga, quando è alle spalle, le tradizioni è chiaro che non giocano, non vanno in campo. Però quando ci sono queste piazze, a livello anche qualora ci fosse bisogno, penso che nel mercato di riparazione sono quelle società che sicuramente possono attingere anche su un discorso, insomma, di entrate, di pubblico, di questo tipo, per cui me le aspetto che un pochino più avanti verranno fuori. Ancora Gubbio, tra poco vedremo immagini del passato, Riccardo che partita ti aspetti? Intanto mi aspetto un bel cielo sereno per sabato, quindi... Poi parliamo anche di meteo, no, no, a parte gli scherzi. Un accendino lo facciamo, Ricc meteo, spegliamo, sei tu, sei tu, su Facebook. A parte gli scherzi, no, io mi aspetto che il Gubbio continuerà il trend delle partite fuori casa, perché secondo me, per come la penso io, il Gubbio, diciamo, sulle ripartenze, quando si trova un avversario che è costretto a fare la partita, quindi in questo caso l'Ancona dovrà fare la partita perché si trova in una situazione classifica, diciamo, abbastanza indietro dal gruppo di testa, quindi se vuole recuperare un po', dovrà cercare di vincerla. Quindi secondo me il Gubbio si troverà in una condizione tale che quando ci siamo con gli spazi davanti, con Daniele, con Ferretti, con altri elementi che abbiamo davanti, sicuramente possiamo portare a casa il risultato. A Luca invece chiedo, prima ancora di sabato, domani che giornata ci dobbiamo aspettare, secondo te? Guarda, domanda perfetta. Domani è una giornata sicuramente molto intensa, più che altro la notte sarà molto intensa. Però io volevo aprire una piccola parentesi, se me lo permetti. Noi, anno scorso, siamo... Spieghiamo, domani non si gioca nessuna partita, arriverà il referto del giudizio sportivo. Esatto, e lì parlavamo prima, ecco. Noi ci siamo penalizzati a Gubbio, di l'ultima partita più bella del campionato di anno scorso, quando Gubbio aveva vinto e è stato costretto ad andare a giocare fuori. Ora dobbiamo essere un attimino, un pochettino più razionali. Possiamo arrabbiarci, possiamo dire quello che pensiamo, ma non creare situazioni di pericolo. Perché poi alla fine va a discapito della società, perché arriveranno molte, quindi o tirare oggetti o no, io chiedo sempre la comprensione delle persone. perché alla fine penalizziamo non solo praticamente l'arbitro, che all'arbitro poi alla fine non gli facciamo niente, andiamo a penalizzare la società che magari già fa degli sforzi per portarli avanti. L'anno scorso abbiamo giocato due partite fuori, non ci siamo... Tra l'altro sono importanti. Bravissimo, anche per la cassa, esatto, per la cassa. Ci siamo privati di vedere con il Parma una bella partita. Tutto questo perché sicuramente è partito un entusiasmo sbagliato. Allora, possiamo dire quello che pensiamo, però arrivati a un certo punto ci dobbiamo fermare, perché poi non porta bene a nessuno, né alla persona. Altra cosa, siamo in Lega Pro, professionisti. professionisti, comunico sempre, ci sono le telecamere, quindi possono essere ripresi, non si può tirare oggetti in campo, non si può rifare nulla perché parte oltre la denuncia il DASPO. Quindi tifiamo, perché no, contestiamo, ma fermiamoci lì. A livello verbale. A livello verbale. Stiamo ad aspettare quello che ci diranno i vaticini della giustizia sportiva domani. Che cosa ci dice invece Claudio? È finita la partita a Padova, 2-0 contro la Reggiana. E allora possiamo vedere, se ce l'abbiamo, la classifica aggiornata, perché come detto la classifica si accorcia, vediamo come, in che modo, perché ovviamente il Padova fa un bel balzo avanti e sale a quota 13, se non vado errato, ecco, non l'abbiamo però aggiornata. Qui ancora la classifica è con lo 0-0. Aggiorniamola con la Reggiana un punto in meno, il Padova con due punti in più, e poi la rivediamo, magari lo facciamo mentre ci gustiamo il rosso e il blu. Siamo proprio in conclusione. Vogliamo lanciarlo, Claudia? Sì, infatti proprio al prossimo turno è dedicata la nostra rubrica speciale di stasera, il rosso e il blu. Ci occupiamo appunto di Ancona-Gubbio, con un servizio speciale, immagini risalenti a metà degli anni Sessanta, davvero inedite. Il rosso e il blu. Il rosso e il blu, a cura di Giacomo Marinelli e Andrioli. Gubbio e Ancona è una sfida che affonda le radici nella Serie B, risale infatti alla memorabile stagione 1947-48, la prima nella categoria cadetta, la prima doppia sfida di campionato tra le due squadre, anche se in realtà le prime sfide risalgono a metà degli anni Trenta, tutti amichevoli ma sempre gare combattute e ricche di gol. Il primo impatto è negativo per il rosso-blu che incassano due sconfitte su due nel torneo di Serie B, che del resto sarà varo di soddisfazioni. Bisogna arrivare agli anni Sessanta per ritrovare un'inedita pellicola di un'Anconitana Gubbio. È ancora un amichevole di fine estate. Al vecchio stadio Dorico, i bianco-rossi di casa sono di categoria superiore, militano in C, mentre il Gubbio attende di iniziare la sua avventura in quarta serie. Un video inedito e particolare perché a girare le riprese è il nostro Fernando Sebastiani nelle vesti di portiere di riserva. Le immagini infatti si riferiscono al solo primo tempo, quando sedeva in panchina, poi dovendo scendere in campo nella ripresa, lascerà l'incombenza ad un compagno di squadra, quanto basta per avere ancora oggi un documento video prezioso di 51 anni fa. Con un risultato a sorpresa, il Gubbio vinse 2-1 con la squadra allora allenata da Mario Mancini, reduce da una stagione stravinta e da imbattuti. In quel Gubbio, quasi tutto è Ugubino, aveva anche fatto ritorno Filippo Regni, reduce dalla serie A e la B con il Messina. Una vittoria da ricordare, anche se poi il campionato non fu altrettanto fortunato. Le vittorie da ricordare in tornei ben più fausti arrivano in tempi più recenti, con la TV a colori. È la stagione 2005-2006 e il Gubbio di Cuttone va al Del Conero per affrontare l'Ancona, guidata in attacco niente meno che da Cristian Bucchi. Finisce 1-0 per il Rosso Blu con la rete di Gianluca De Angelis, già da un anno al fiere offensivo dell'attacco a Ugubino. Altra impresa nell'inverno di due anni fa, una delle gare più spettacolari del Gubbio di Acori, poi vittima di una involuzione tecnica e di risultati nel girone di ritorno. Finì 4-2 al Del Conero con doppietta di Loviso e gol di Regolanti e Kais. Un poker che illusse più di un tifoso su una stagione che avrebbe dovuto regalare soddisfazioni. Ma proprio come in quel lontano 1965, mai vittoria fu più effimera. Gubbio a fine anno retrocesso è anche una salva. Ora le strade si incrociano di nuovo e i presupposti per vedere una nuova sfida ricca di emozione ci sono tutti. E dopo questo fugace viaggio nel passato chiedo a Daniele un po' le motivazioni anche di questa partita per te. Lo scorso anno eri a Ancona, sicuramente una gara speciale. Sì, sì, sarà una bella emozione tornare a giocare al Del Conero dove l'anno scorso mi sono trovato benissimo a Ancona. Con la coppia Tasso-Cornacchini. Esatto, sì. Adesso sono a Viterbo. Però quest'anno ci torno d'avversario e speriamo di riuscire a fargli i gol. Un po' come quel 4-2 tu c'eri. Sì, in quella partita. È stata un grande Gubbio. Sì, sì, era quel periodo dove andavamo veramente alla grande. Poi nel ritorno purtroppo è successo davvero di tutto e di più, forse di niente. Perché il Gubbio è rimasto al palo. A Federico Barontini gli chiedo invece due parole un pochino su questa stagione che per la squadra che ti vede capitano culminerà a dicembre. Abbiamo anche qualche foto. Parliamo della selezione giornalisti però siamo scudettati, possiamo dirlo. Sì, dobbiamo andare a cercare di mantenere il titolo che abbiamo conquistato lo scorso anno con fatica perché è stata la prima volta che non ha vinto la selezione del Lazio. Ecco, ci aspetteranno col dente avvenenato. Ci aspetteranno col dente avvenenato. Sicuramente fra i top player potrebbe esserci scherzando, dicevamo l'anno scorso, chiameranno Totti perché non gli è andata giù questa sconfitta. Però Totti non ha smesso. No, Totti non ha smesso e ritroveremo forse chi appara. Marcolin. Marcolin. No, va bene, è una bella esperienza. Noi, diciamo, da fine agosto che ci stiamo ritrovando settimanalmente anche con te speriamo che, insomma, sarai in forma. Lasciamo stare. Per fortuna c'è Barontini. Per quel periodo. Federico che spera di allenare dopo aver fatto molto con i ragazzi? Ma sì, io ero partito diciamo appena terminato la carriera di calciatore in promozione. Ho fatto un anno e mezzo. Poi sono andato, sono stato tre anni col settore giovanile. Onestamente credo che questa esperienza col settore giovanile mi abbia fatto bene perché quando sono partito in promozione diciamo ho terminato la carriera di calciatore si allena ancora con l'idea del calciatore e invece bisogna un po' toglierci dalla testa che quello che è stato perché è un'esperienza completamente diversa. Stare con i ragazzi mi ha insegnato molto mi piacerebbe appena ce ne sarà la possibilità magari trovare una prima squadra qui in Umbria. Tu che da ragazzo sei stato una giovanile fiorentina e sei stato con Roberto Baggio in panchina in Coppa UEFA Eh sì ho avuto questa ho avuto questa fortuna sì non ancora diciamo maggiorenne avevo ancora compiuto 18 anni ho avuto la fortuna di allenarmi un paio di mesi e di fare 5-6 panchine in prima squadra c'era insomma Roberto Baggio era uno spettacolo vederlo giocare ma anche vederlo allenare insomma bastava quello bastava quello una cosa fantastica chiudiamo invece con Roberto e con Luca auspici per il meteo del torneo il gubbio Riccardo ha detto Roberto tu fratello non c'è problema c'è problema ci perdone si è rimasto in famiglia il meteo del torneo ce l'ha impodato insomma per quanto riguarda il gubbio sì 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 il meteo vogliamo ricordare questa tua passione che però è anche molto seguita diciamo molto apprezzata io quando ho visto ci siamo sentiti per venire qui in trasmissione ero un po' titubante perché ormai mi conoscono parecchi per il meteo e quindi dico adesso mi vado a parlare del gubbio facciamo un po' di confusione però quella è una passione che coltivo ormai da 10 anni quindi la porta avanti però onestamente ho anche una passione grande per il gubbio quando posso vado sempre allo stadio perché un egubino fin da piccolo guarda le partite quindi se lo ho nel sangue continuerò sempre a vedere il gubbio l'appello ai tifosi con Luca lo abbiamo fatto abbiamo detto di domani a questo punto vediamo che sia la notte una notte tranquilla che porti consiglio che porti consiglio soprattutto buon lavoro per le prossime grazie per le prossime partite il vostro è un lavoro scuro ma importante il nostro è un lavoro un pochettino particolare perché avete queste pettorine poi da fastidio un pochettino perché va al controllo però se il controllo è fatto bene poi porta benefici alla società sicuramente noi possiamo vedere la classifica aggiornata per chiudere salutarci eccola qua l'andiamo a vedere senza ricordarla tutta ma insomma le cose importanti sono lì dietro al gubbio che resta solo a 16 la reggiana ferma 15 sconfitta a Padova Padova che però guadagna l'ultimo posto della colonna sinistra quindi entra diciamo nella zona playoff perché le prime dieci ricordiamo quest'anno oltre alla prima che va in B le altre dalla seconda alla decima andranno ai playoff allora non resta che salutare i nostri ospiti e ringraziarli per questa nostra settima puntata Daniele Casiraghi grazie in bocca al lupo grazie a voi buona serata a tutti Federico Barontini grazie per essere stato con noi grazie a voi a presto e ovviamente in bocca al lupo buon lavoro ognuno nei propri ambiti Luca Tasso grazie e Riccardo Rossi grazie ringraziamo Claudia il nostro staff tecnico alle camere Angelo Casagrande Alessandro Zini Giorgio Sbugia in postazione audio Carlo Manciani al montaggio Patrizia Melelli alla regia Sandro Cusarelli e ringraziamo per la segla Gian Paolo Pausselli io ringrazio ovviamente Claudia grazie a te Giacomo ci vorrebbe una telecamera per vederla nella tribuna stampa perché sabato è riscatenatissimo facciamo così un retroscena io ringrazio ovviamente chi ci ha seguito noi torniamo ogni lunedì alle 21 il replica è il martedì alle 14 e poi sempre alle 21 ma sul canale 111 se vorrete siamo anche su internet sempre dal martedì su trgmedia.it grazie e noi ci ritroviamo lunedì prossimo grazie a tutti 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 grazie a tutti